Chiuse le indagini sull'incidente stradale dove a perdere la vita fu l'agropolese russo Isa nel mese di giugno. L'accusa è di omicidio stradale. La vittima fu investita e travolta in pieno giorno sulle strisce pedonali in via Colombo da un'autovettura alla cui guida vi era una donna del posto. La 76enne stava attraversando sulle strisce pedonali tra il palazzo del giudice di pace e un negozio di abbigliamento che si trova dalla parte opposta della strada quando l'auto l'ha urtata. Nella sentenza è stato specificato anche che dopo l'urto l'auto ha proseguito la marcia schiacciando sotto le ruote la povera signora causandole lo sfondamento del bacino e numerose emorragie interne. Nonostante l'intervento del 118 ed il trasporto in eleambulanza presso l'ospedale di Salerno, la signora Isa Russo è deceduta a poche ore dal violento impatto. Un episodio, quello della morte della signora Isa, che fece discutere molto sulla tutela dei pedoni in città.